La prima parte del ritiro si è conclusa con buone sensazioni e duro lavoro, come non si vedeva da parecchio tempo. Antonio Conte non ha potuto lavorare con tutto il gruppo causa assenze poste europeo e con dubbi in merito al mercato in uscita e in entrata, ma ha saputo come dare un'impostazione alla squadra, incentrata sulla concentrazione e su sessioni di allenamento intense. Adesso, dopo tre giorni di riposo, inizia la seconda parte del ritiro che si svolgerà a Castel di Sangro. Abbiamo chiesto ai tifosi azzurri quali sono le loro impressioni. È stata la prima parte senza molti titolari, qualche nuovo acquisto. Adesso con la ripresa a Castel di Sangro bisogna portare, a parte le ritorneranno tutti i nazionali, quelle che ci mancavano. In più, i due acquisti importanti, sia il centravanti, non so se sia Lukaku o altro, il difensore Spero Nermoso, che è un difensore di esperienza che ci servirà tantissimo e se arriva anche un grande centrocampista è meglio. Almeno gli allenamenti sono stati belli duri, come non si vedeva da anni, quindi le buone intenzioni sicuramente ci stanno. Poi Conte può essere simpatico, antipatico, comunque è un allenatore di esperienza che ha vinto pure tanto in carriera, quindi io sono moderatamente ottimista. Finalmente un allenatore che fa allenare il Napoli. L'anno scorso non si è capito niente. Ci sono delle regole, è giusto fare così. Sono molto contento, sinceramente. Finalmente stanno lavorando, stanno realmente facendo una preparazione di grande livello. Mi dispiace solo che non ci sono altri titolari perché avrebbe fatto bene anche loro a fare questo tipo di preparazione.